binomio è così che ci chiamano è così che siamo la somma di due monomi strettamente connessi un rapporto magico quasi che si nutre dell'attenzione della cura reciproca e che si esprima al suo meglio in un contesto naturale dove tutto è pensato per custodire quest'intima connessione. In questo luogo c'è un campo dove a ogni passo il benessere del binomio è tutelato e protetto. È il campo di lavoro in gomma riciclata dai pneumatici fuori uso. Il campo in PFU si prende cura di cavallo e cavaliere. Non c'è dispersione di polvere con un minore rischio di infiammazioni respiratorie per entrambi. Il fondo più elastico di quelli in sabbia facilita l'assetto naturale dell'andatura del cavallo anche con patologie articolari e consente una ripresa più veloce in caso di lievi infortuni. Un fondo morbido che attutisce anche le inevitabili cadute del cavaliere. Un campo che è anche un ottimo alleato di chi ci lavora ogni giorno perché ha una maggiore facilità di manutenzione e una vita più lunga. Grazie ai PFU, cavallo e cavaliere hanno ora a disposizione un luogo dove poter esprimere la loro connessione che ha radici lontane. Due cuori che battono insieme. Ci troviamo presso l'ospedale veterinario didattico dell'Università degli Studi di Perugia all'interno del quale si trattano le malattie del cavallo e all'interno del dipartimento è presente anche il centro di studi del cavallo sportivo con il quale Ecopneus e Wisp hanno stretto da qualche anno una collaborazione per la ricerca e per lo sviluppo di nuove pavimentazioni come superfici di lavoro per questi animali. Parte di questa collaborazione ha riguardato lo studio di un campo in PFU che poi è stato modificato in un secondo campo ed è stata fatta una comparazione tra queste due tipologie di campo e la sabbia. Utilizzando uno strumento particolare molto utile che è l'equinosis locator che è un sistema di rilevazione inerziale delle zoppie del cavallo. Abbiamo voluto comparare i campi in PFU con la sabbia perché la sabbia ad oggi è considerata la superficie migliore per l'utilizzo dei cavalli da concorso e da dressage a livello internazionale. La ricerca è stata portata avanti su due gruppi di cavalli, ossia un gruppo di cavalli sani o fit to compete come viene definito oggi e un gruppo di cavalli con delle zoppie. Tutti i cavalli sono stati valutati sia in linea retta, sia in volta a mano destra e a mano sinistra alla longia, sia montati dal cavaliere. I risultati sono stati molto incoraggianti perché hanno permesso di mettere in evidenza che per quanto riguarda i cavalli sani non c'è una grossa disparità, differenza significativa tra la superficie in sabbia e le due superfici in gomma. Mentre per quanto riguarda i cavalli zoppie ci sono delle piccole differenze, probabilmente sono legate al tipo di superficie. I vantaggi dei campi in PFU rispetto agli altri campi sono molteplici. Il primo è che le superfici sono più regolari e più drenanti, non hanno bisogno di acqua, possono essere utilizzati per 24 ore al giorno sia durante l'estate che durante l'inverno anche quando fa molto freddo e soprattutto sono praticamente annullate le polveri della sabbia.